Diciamocela tutta, il momento è particolare, delicatissimo, la strategia fin troppo chiara ma la sostanza però c'è tutta e guai se non fosse così. Ancora riecheggia nelle orecchie dei salernitani e non solo del comune capoluogo l'annuncio ad effetto del governatore De Luca che dando seguito ad una serie di incontri monotematici ha annunciato anche l'arrivo sul territorio di una vagonata di euro, un miliardo o giù di lì da investire in opere pubbliche ed infrastrutture. Non ci fosse stata di mezzo l'infocata campagna elettorale per le politiche di Domenica, l'annuncio avrebbe avuto, considerata la portata dell'investimento, una eco-mediatica prorompente ed invece, proprio perché secondo qualcuno l'annuncio è legato a filo doppio al voto di Domenica, è stato derubricato alla voce slogan propagandistico. Non può essere così e per un semplice motivo. Esaurita la campagna elettorale, il governatore De Luca, con la sua giunta, sarà ancora lì al suo posto, a Palazzo Santa Lucia, a metterci faccia e credibilità rispetto all'impegno assunto. Dunque si può discutere sulla tempistica, sulla forza mediatica, non sulla sostanza. Tanto più perché si parla di opere da tempo in incubazione, nulla di nuovo o di epocale, progetti e infrastrutture calendarizzate da tempo e non più differibili. Ci riferiamo in modo particolare all'aeroporto di Ponte Cagnano-Faiano, destinato ad entrare nel circuito di Capodichino e solo per questo finalmente attivabile. Oppure il prolungamento della metropolitana, possibile questa, grazie ad una sinergia con le ferrovie dello Stato. Opere di straordinaria importanza per le quali la regione Campania ha trovato partner istituzionali finalmente disponibili ad ascoltare, decisi ad accompagnare il percorso, in quanto le opere in questione, a prescindere dal colore politico della giunta regionale, vengono considerate di assoluta e strategica importanza. Qualche dubbio in più, e non dipendente in questo caso dalla volontà della governatore, persiste a proposito dei fondi per la ristrutturazione degli impianti sportivi, la Rechia a Salerno, il San Francesco a Nocere Inferiore, il Lamberti a Cava, il Torri a Pagani, il Palasele a Deboli e via di questo passo. Bene, questi interventi sono stati programmati all'interno delle universiadi che dovrebbero svolgersi l'anno prossimo in Campania. L'uso del condizionale purtroppo è d'obbligo perché al netto dell'impegno del Comitato Nazionale si attendono le determinazioni del Governo Nazionale e del CONI. Qualcosa in più, questo sì, lo si potrà sapere lunedì 5 marzo. Grazie.